In provincia di Agrigento l'aver trasformato negli anni le aree adiacenti ai torrenti e fiumi in vere e proprie discariche è il segnale non solo dell'inciviltà di alcuni ma anche dei pochi controlli del territorio. Ad Agrigento l'associazione ambientalista Mare Amico in un video mostra come la splendida spiaggia di Contrada Madalusa a causa della piena del fiume Agragas è stata letteralmente invasa da rifiuti di ogni genere. Legna, plastica e pneumatici sono stati trascinati dalla furia dell'acqua anche sull'arenile di Babbaluciara luoghi che l'anno scorso erano stati ripuliti dai volontari della stessa associazione.